non so se pure tu segui la politica italiana eccetera eccetera si si pure io lo sto seguendo sono veramente allibito da certe cose che si dicono cioè più cerchi di fare la persona onesta più ti mettono il bastone tra le ruote oh siamo in Italia, siamo in Italia vedrai che tra non molto le persone si romperanno le palle scenderanno in massa in piazza a far sentire la propria voce ma perché è giusto così? non si può continuare in Italia così siamo in un paese veramente troppo scusami io sono una persona troppo sincera te lo devo dire per forza ma che è che te li ha fatti i capelli? perché? scusami ma sono veramente osceni guarda ti stimo perché hai veramente tanto coraggio ad uscire con quei capelli perché ti giuro sono veramente osceni